Questa storia macabra e di grande successo l'ha scritta una ragazza poco più giovane di me. Si chiamava Mary Goodwin, che poi da sposata assunse il cognome del marito, Shelley. Mary Shelley. Era il 1816 e Mary stava passando l'estate in Svizzera con il marito Percy e la sorella Claire, che era la fidanzata di Lord Byron. Siccome quella maledetta estate c'era stata una grande eruzione vulcanica in Undonesia che aveva peggiorato il clima nella gran parte del mondo, anche in Svizzera pioveva sempre. Insomma, una dannazione. Così Lord Byron, per passare il tempo, decise di leggere dei racconti del terrore e una volta finiti anche quelli, decise di lanciare una gara tra di loro per vedere chi scriveva la storia più paurosa. Vabbè, insomma avete capito. È così che la giovanissima Mary Shelley scrisse Frankenstein. Per noia. Perché pioveva.